Prendi una giornata ad ottobre ricca di sole, aggiungi l'entusiasmo di più di 100 bambini che sognano di giocare a pallone con cucito sul petto lo scudetto del Cagliari Calcio. E' così che la domenica pomeriggio riprende il sapore magico che solo il calcio sa dare. In attesa che il Cagliari, quello dei grandi, riconquisti sul campo il posto che gli spetta in Serie A, a farla da padrone per una volta sono stati più piccoli. Alla fiera campionaria c'erano tutti, alla presentazione delle attività di base del settore giovanile ed è stata una festa. Presentati dal coordinatore Mario Beretta e dal suo staff, salutati dagli affettuosi auguri di Gabriel Montaperto e di Nicolo Giannetti, i ragazzi hanno atteso composti il loro momento di gloria. Inizia una nuova stagione ma lo spirito è quello di sempre, imparare a diventare uomini prima che grandi atleti.